E come anticipavamo in apertura uno degli ospiti di oggi ci ha raggiunto in studio per aiutarci a scoprire il mondo delle cooperative in quella di oggi 3 luglio che è la 29esima giornata internazionale delle cooperative da quando è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite. In realtà quest'anno ricorre il centenario di questa celebrazione istituita nel 1923. E' qui con noi il dottor Ludovico delle Vergini, presidente della cooperativa Cantieri di Innovazione Sociale di San Giovanni Rotondo. Benvenuto Ludovico, grazie per la disponibilità. Grazie a voi dell'invito. Parlare del settore per il quale ti occupi è sempre un piacere. Quando si parla di cooperazione è proprio questo il senso di questo incontro. Quindi grazie a voi dell'invito e una buona giornata a tutti i telespettatori. Partiamo dalle basi. Le cooperative sono uno strumento utile, prezioso e molto diffuso nella nostra società. Di che cosa si tratta? Inizierei con un qualcosa di strutturato. Qual è la nostra Costituzione? L'ho parlato perché le parole sono essenziali, importanti. E la Costituzione è stata scritta pesando le parole. All'articolo 45 della Costituzione italiana si recita La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idoni e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità. I nostri padri costituenti, come al solito, in poche righe hanno raccolto quello che poi è diventata la cooperazione. Il carattere prevalente è di mutualità e di democrazia, di trasparenza e di non sperpere economico e approfittamento economico. Le cooperative però non nascono nella formula in cui le conosciamo oggi. Nascono nel 1844 in Inghilterra un gruppo di lavoratori si mette insieme e il loro capo diceva, il loro presidente, all'epoca non si chiamavano presidenti, cioè per sostenere il benessere dei propri soci. Nasce per quello. In Italia avremo le prime due grosse strutture cooperative dieci anni dopo. Man mano si comincia a sviluppare questa tematica perché era proprio quello, quello di sostenere i propri soci attraverso strumenti. E qui la mutualità, il concetto di mutualità di cui parlavi prima. Per poi, come poi fine anche, quello di soddisfare, gratificare e sostenere alcuni punti cardine della nostra società. Ecco perché poi si parla di primo settore che è lo Stato, il secondo settore che è il privato, il privato esercenti, il terzo settore anche delle cooperative. Adesso è TS, ma poi ci arriviamo. Che succede? C'è fermento ovviamente in Italia, molte si costituiscono, tante al nord. Dopodiché succede quello che è successo, succede l'epoca del fascismo, succede l'epoca della seconda guerra mondiale, nei quali periodi c'è stato il tentativo, anzi, senza tentativo, la distruzione dello stare insieme. Finita la seconda guerra mondiale, si riparte, la società riparte, e riprende il tutto. Ora, le cooperative sono di tanti tipi. Sono le cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole, cooperative di abitazioni, cooperative di pesca, cooperative di trasporti. Poi ci sono, quello di cui mi occupo io, le cooperative sociali, che vengono normate nell'81 con la legge 381. Le cooperative sociali si dividono in due grossi filoni, cooperative di tipo A, quella di cui io mi onoro, mi freggio di essere il presidente, e le cooperative di tipo B, che volgono più lo sguardo ai soggetti svantaggiati, quindi l'inclusione di soggetti svantaggiati. Quindi questo è veramente in brevissimo il mondo cooperativistico, che non si esclude, ripeto, solo alle cooperative sociali. Quindi è un modo di legarsi in modo democratico con l'accento alla mutualità. Lo strumento trasversale, come abbiamo avuto modo di ascoltare, è assolutamente ancora molto attuale, moderno vorrei dire, nonostante i tanti anni di costituzione del sistema cooperativo. Ma andiamo nel particolare, soffermiamoci un attimo su cantieri di innovazione sociale, che è la cooperativa che hai, come dicevi tu stesso, l'onore di rappresentare e di dirigere, perché fate un sacco di attività, svolgete un sacco di attività, mi piacerebbe che tu ce ne raccontassi qualcuna. Sì, prima di passare allo specifico, quello che dicevi tu, Tony, è essenziale, perché c'è stata una grossa evoluzione, anche in termini di normativa. L'ultima, e quella che poi è interessata anche l'altra tipologia di associazioni del terzo settore, è proprio il nuovo codice del terzo settore, la 117 del 2017, quella che poi ha istituito il RUNS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quindi tutte le organizzazioni, che siano di volontariato, promozione sociale, culturale, sportiva, e le imprese sociali, quindi le cooperative, entrano tutte in unico registro. Così lo Stato ha normato e gli articoli fondamentali sono il 55 e il 56, famosissimi ormai, che parlano di cosa? Di coprogrammazione e coprogettazione. Cioè gli enti pubblici sono invitati, e forse anche tenuti, a richiamare gli ETS, gli enti del terzo settore, nel proprio territorio, per programmare, progettare insieme le attività e i servizi sul territorio. Bene, questa è una delle cose che la nostra cooperativa fa, e abbiamo trovato, non perché mi trovo a San Giovanni, ma è vero, nel comune di San Giovanni una grossa visione rispetto a questo. Non ultimo, vengo proprio adesso, oggi abbiamo inaugurato, il primo centro estivo, inclusivo per disabili, che abbiamo chiamato Ability Summer Camp, fatto in coprogrammazione, coprogettazione, col comune di San Giovanni Rotondo, con altre due cooperative del territorio, e con altre associazioni che hanno dato la loro disponibilità. Partiremo con queste due settimane, dove i ragazzi iscritti, molti minori, alcuni anche adulti, saranno insieme ad altri minori, non disabili, a conoscere il territorio, tra piscine, campo scout, parco dei dinosauri, e insomma, e via dicendo. La cooperativa, dicevi bene, fa tante cose, siamo 26 soci adesso, siamo nati ad agosto del 2014, l'anno prossimo compiamo 10 anni, quindi speriamo di fare una bella festa, e due settori sui quali lavoriamo maggiormente, che è il contrasto alla povertà educativa minorile, lavoriamo con molte scuole del territorio, per offrire opportunità e spazi ai minori, per lo sviluppo delle competenze non formali. Questo è un filone, l'altro filone è quello dell'inclusione sociolavorativa ai soggetti svantaggiati, attraverso la formazione e l'orientamento, quindi proviamo a supportare la famiglia nel suo essere globale, dal minore al genitore, all'anziano, al disabile, quindi tutto ciò che circonda il nucleo familiare. Il vostro spirito cooperativistico, tra l'altro, si spalma anche su una serie di attività che vedono coinvolti numerosi altri partner, non solo istituzionali, ma anche appunto del mondo del terzo settore, delle associazioni. Siete capofila di tanti progetti che vanno ad intervenire anche nelle realtà più periferiche del Gargano, della provincia di Foggia, per cui posso testimoniare questo impegno forte e sentito, tra l'altro, con piacere, sentivo prima quanto sei diventato padrone anche delle normative, per cui, nasci psicologo, ma ormai sei anche avvocato e commercialista. Beh, questo, l'avvocato e commercialista, è un mestiere duro, facciamolo fare a chi l'ha studiato, però è chiaro che quando entri in questo mondo, come altri, altri settori, altre imprese, altre tipologie, è chiaro che è necessario sempre aggiornarsi, leggere, informarsi, e molte volte lo si fa non per forza leggendo, ma incontrandosi con altre persone, incontrandosi con altre realtà ti permette di avere un mondo completamente diverso. Noi abbiamo avuto la fortuna, se ho ancora un minuto, di conoscere un grosso consorzio di Lecco, ci ha intercettati, loro da molto tempo attuano lo strumento della coprogettazione, abbiamo lavorato insieme per tre anni, è stata un'esperienza bellissima, dalla quale abbiamo imparato veramente, veramente, veramente tanto, loro senza mai farci sentire più piccoli, e quella forse è la forza della mutualità, quella è la forza della cooperazione, non ti devo insegnare, devi apprendere facendo cose, e tutti hanno lo stesso potere e diritto, non è il presidente decide, tutti hanno la stessa possibilità, non è il presidente che sovillavora al proprio socio, ma il socio che si sbraccia, e insieme con l'organo direttivo, sviluppa economia sociale, in questo caso. Molto bene, noi ne approfittiamo allora, per fare tanti cari auguri alla tua cooperativa, e a tutte le cooperative, che restituiscono ogni giorno, sui nostri territori, un importante valore sociale, economico e lavorativo, per cui in bocca al lupo, buon lavoro, e grazie per essere stato qui con noi stamattina. Grazie a voi, grazie, e grazie a tutti i telespettatori. Possiamo seguire tutte le attività della cooperativa, Cantieri di Innovazione Sociale, sui social, sul sito internet di riferimento, per cui rinnoviamo gli auguri di buon lavoro, al dottor Ludovico delle Vergini, e noi ritorniamo insieme, subito dopo una nuova pausa pubblicitaria.